denghe in regressione a pesaro fano e urbino nuove disinfestazioni precauzionali pesaro 2024 diventa un docufilm con nascita di una capitale in onda venerdì su rai 3 insediato il nuovo consiglio provinciale di pesaro e urbino nuova vita per ario costa l'ex presidente della vl al lavoro per conf artigianato e pesarese il miglior vino d'italia nel rapporto qualità prezzo ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è martedì 8 ottobre apriamo questa edizione parlando del focolaio di denghe a fano che si sta mostrando in fase regressiva ma si predispongono nuove disinfestazioni in via precauzionale non solo a fano ma anche a pesaro infatti verrà effettuato un secondo intervento nella notte di giovedì e per la prima volta si interverrà anche sul centro di urbino partiamo così non si sono registrati nuovi casi oltre all'unico segnalato lo scorso venerdì ma pesaro gioca d'anticipo sulla prevenzione alla denghe predisponendo una nuova disinfestazione in zona porto nella notte fra mercoledì e giovedì al fine di evitare un potenziale aumento della densità della zanzara tigre in un ottobre di temperature ancora sostenute l'intervento è stato programmato per giovedì 10 ottobre dalle 3 di notte alle 6 di mattina e si svolgerà per un raggio di 300 metri dall'epicentro di via le napoli coinvolgerà infatti via amalfi via le gorizia via le battisti via calata duilio via della sanità via genova via grado via monfalcone via paterni via pisa via renzoni strada tra due porti via le trento e via le trieste nell'occasione il invita a tenere aperti i cancelli degli edifici pubblici presenti nel perimetro per consentire ad aspes di intervenire con la disinfestazione anche negli spazi esterni della casa di riposo padre damiani della nuova scuola dell'istituto dante alighieri delle scuole di infanzia peter pan specchio magico e scuola primaria gian santi per precauzione si suggerisce di tenere finestre chiuse animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento disinfestazioni che nei giorni scorsi sono continuate anche a fano e che per la prima volta in via precauzionale saranno effettuate anche ad urbino che ha disposto tre notti di trattamento adulticida dentro le mura del centro storico dalle tre alle sei da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre l'anno di capitale della cultura diventa anche un docu film si chiama nascita di una capitale è stato ideato dal regista fabio galli e verrà trasmesso venerdì su rai 3 oggi abbiamo assistito all'anteprima di questo lavoro nascita di una capitale questo è il nome del docu film presentato presso il salone nobile di palazzo gradari dedicato a pesaro 2024 capitale italiana della cultura che vede come mediatore regista il noto pesarese fabio galli un documentario che vuole essere un viaggio emozionale nella storia e nel mistero di pesaro e della provincia io nasco sono nato a pesaro e quindi c'ho nel cuore pesaro e la mia città da sempre e quindi con l'occasione di pesaro capitale della cultura italiana 2024 ho iniziato già nel 2022 per cui eravamo già in anticipo sui tempi a pensare come mi sarebbe piaciuto descrivere questa città in realtà questa provincia e forse anche questa regione perché questa le Marche è una regione bellissima poco conosciuta e pesaro ci ha dato l'opportunità di parlare di cose dal punto di vista sia emotivo che visivo perché questa è una regione in cui lascia il cuore e noi abbiamo voluto io ho voluto come attore principalmente poi come regista portare questo viaggio in un campo emotivo poi vi renderete conto perché non è il solito documentario ma è un viaggio attraverso i misteri che partono proprio dalle origini di pesaro e si dipanano attraverso un percorso che è innovativo è in qualche maniera inaspettato e che spero vi piaccia un progetto che si è stato presentato dal produttore ermes bonini ma soprattutto anche dalla dell'ideatore che poi anche diretto fabio galli è un attore una figura insomma molto conosciuta sul panorama nazionale ma anche pesarese e quindi si è pensato bene con lui di fissare tra i tanti momenti importanti della capitale della cultura anche un documentario che appunto parte dalla nascita di una capitale, giocando un po' sulla capitale della cultura, giocando un po' anche a partire dalla romanità con una capitale diciamo della penisola italica in senso più ampio con diversi passaggi diciamo anche storici, alcuni suggestivi, alcuni diciamo anche di fantasia ma che riportano comunque a una narrazione complessiva di una città, di un territorio che ha da sempre svolto un ruolo nazionale, una visibilità nazionale così come chiaramente al giorno d'oggi con l'opportunità della capitale della cultura può fare anche con uno sguardo verso il futuro. Ed ora cambiamo argomento perché si è insediato questa mattina il nuovo consiglio provinciale di Pesaro e Urbino che lo scorso 29 settembre ha visto l'elezione dei sei consiglieri di centrosinistra Gabriele Giovannini, Laura Giombini, Oriano Giovannelli, Anna Maria Mattioli, Palmiro Ucchielli e Omar Lavanna e dei sei di centrodestra Niccolò Pierini, Fernanda Sacchi, Luca Serfilippi, Domenico Carbone, Enrico Rossi e Daniele Malandrino Il presidente della provincia Giuseppe Paolini ha enfatizzato come per il consiglio continuerà la battaglia per il ripristino di dignità, funzioni e risorse alle province dopo che all'orizzonte si prospetta un taglio di 1.700.000 euro di fondi per l'ente pesarese È passato esattamente un mese dall'omicidio di Ana Cristina Duarte Correira mamma 38enne di origine brasiliana uccisa coltellate dal marito Ezio di Levrano nella propria casa di Saltara di Colli al Metauro Un mese in cui non si è ancora potuto dare degna sepoltura alla donna per i cavilli burocratici che ne stanno ritardando la celebrazione del funerale L'avvocatessa della famiglia denuncia un caso che sta aggiungendo ulteriore sofferenza allo strazio devastante dell'uccisione di una mamma sotto gli occhi dei propri figli Ed ora cambiamo nuovamente argomento Oggi martedì giornata di mercato settimanale a Pesaro in un'area del San Decenzio che si prepara nuovamente a cambiare pelle per quanto riguarda sosta e disposizione degli espositori Continua a cambiare pelle il mercato cittadino nell'area del San Decenzio Dopo l'allargamento dell'area parcheggio di un anno fa e il trasloco dei generi alimentari da Piazzale Bachelet accorpati al resto del mercato dello scorso febbraio sul tavolo di confronto di comune associazioni di categoria ambulanti sono pronte a discutersi nuove modifiche per quanto riguarda disposizione geografica degli espositori e aree di sosta Su quest'ultimo punto si pensa infatti di ricavare un'area sosta dedicata a moto, scooter e biciclette nella superficie dei campi di basket Superficie ampia in cui troverbero spazio rastregliere e nuove strisce di parcheggio dedicato in una strategia volta a migliorare arrivo e accesso al mercato che negli ultimi mesi ha visto anche l'adozione della sosta auto a rotazione con disco orario Sul tavolo di confronto è pronta anche una possibile riconfigurazione degli stand per generi merciologici Intanto l'area del San Decentro si prepara ad accogliere un evento inedito quello dei camperisti d'Italia che hanno scelto la capitale della cultura come sede del proprio raduno nazionale previsto l'11, 12 e 13 ottobre Dopo una vita trascorsa nel basket pesarese da giocatore, dirigente e presidente a 63 anni Ario Costa è pronto ad una nuova avventura professionale all'interno dell'associazione di categoria Confartigianato Vediamo quale sarà il suo incarico 12 anni trascorsi da bandiera dell'epoca d'oro della Scavolini condita da due indimenticabili scudetti del basket pesarese 12 anni anche da presidente della VL conclusi lo scorso maggio Orario Costa all'età di 63 anni si prepara ad una nuova avventura professionale quella presentata oggi nella sede pesarese di Confartigianato Imprese Ancona Pesor Orbino che lo ha voluto come testimonia all'operativo delle attività e delle opportunità offerte dall'associazione di categoria nell'ambito dei mondi ben conosciuti dall'ex dirigente Biancorosso Chiaramente devo ringraziare Confartigianato che mi ha dato questa opportunità che ritengo molto interessante e stimolante Cosa si tratta? Si tratta di continuare e soprattutto di incrementare il rapporto di Confartigianato con le varie imprese del territorio, creare reti, creare combinazioni, rapporti, socialità e questo già diciamo che ce l'hanno perché sono esperti di questo e poi la vera novità è quella di entrare nel mondo sport per cercare di coinvolgere tutte le associazioni e gli associati e a far conoscere cosa può offrire la Confartigianato anche al mondo dello sport e questo è un primo degli obiettivi e dopodiché entrare anche nelle scuole per far cominciare a capire ai vari studenti delle varie scuole, medie, primarie e superiori che ci si avvicina sempre più al lavoro bisogna avvicinarsi con entusiasmo, con serietà, con correttezza e soprattutto con passione e quindi andremo a divulgare questa nostra volontà di stare vicino ai giovani e consigliarli e inserirli nel mondo del lavoro Ci potrà aiutare e potremo lavorare insieme per appassionare i giovani per entrare nelle scuole, per seguire tutte le imprese che si trovano nel settore dello sport quindi un cluster dello sport e quindi sembrava l'occasione perfetta e sembra l'occasione perfetta che si è concretizzata e quindi oggi abbiamo ritenuto opportuno comunicarla alla città, alla provincia e alla regione al fine proprio di cercare sinergie e sintonie per portare benessere nel nostro territorio Il 12 e 13 ottobre tornano le giornate fai d'autunno andiamo quindi a scoprire quali saranno i luoghi pesaresi che si apriranno eccezionalmente alle visite al pubblico In questa tredicesima edizione delle giornate fai d'autunno proponiamo a Pesaro due edifici meno consueti quindi la sede della Camera di Commercio dove ci troviamo oggi e la Caserma del Monte sono due edifici di epoca razionalista costruiti negli anni da 30 e 40 ma non sono importanti solamente perché ci danno lo spunto di parlare di questa architettura, di una stagione dei concorsi in cui la maggior parte delle opere pubbliche venivano realizzate tramite bandi ci danno anche l'occasione di parlare di quello che avviene all'interno di questi luoghi questo è un importante luogo per la nostra società, per i lavoratori, per le aziende mentre la Caserma del Monte è un luogo che custodisce importanti momenti della nostra storia con il 28esimo reggimento Pavia ma che attualmente riveste un compito molto nuovo e importante che è quello di comunicazione nei teatri operativi è l'unico reparto in Italia che si occupa di questo e ha l'importante compito di preparare le popolazioni nei teatri operativi al consenso verso le forti multinazionali che vanno per azioni di pace E giovedì 10 ottobre invece ricorre la giornata mondiale della vista un appuntamento che l'Unione Italiana Cechi e i podvedenti di Pesaro e Urbino celebra offrendo controlli della vista gratuiti presso il centro oculistico sociale della sezione che si trova a Pesaro in strada statale Adriatica 151 Le visite saranno effettuate il 12 ottobre dalle 15 alle 18 con prenotazione obbligatoria al numero che vedete in sovrimpressione 0721 41 61 71 E rimanendo in tema medico la Regione Marche ha deliberato oggi che la somministrazione del vaccino antipapilloma virus sarà estesa anche alle farmacie vaccinazioni in farmacia che saranno possibili a partire dal 1 gennaio 2025 Venerdì 11 ottobre alle ore 18 nella sala Pierangeli della provincia è in programma l'iniziativa Aldo Brilli Cattarini a 100 anni dalla nascita per ricordare il fondatore del centro Floristiche Marche scomparso nel 2006 Nell'appuntamento sarà proiettato il video commemorativo ritratto di Aldo Brilli Cattarini E l'AMAT ha presentato oggi la nuova stagione di prosa del Teatro Sanzio di Urbino che prevede 8 spettacoli in abbonamento Si comincia il 3 novembre con Coppia aperta, quasi spalancata interpretata da Chiara Francini e Alessandro Federico Il 2024 sarà poi completato da Aspettando Re Lire con Alessandro Preziosi Eretici con Mattias Martelli e Amanti con Massimiliano Galli e Fabrizia Sacchi Lo scorso fine settimana si è aperto il ricco ottobre delle rassegne dedicate al tartufo nella provincia di Pesaro Urbino con le città di Pergola e Apecchio che vi abbiamo mostrato appunto nel notiziario di ieri Dal prossimo sabato parte invece la più longeva delle mostre quella di Sant'Angelo Invado giunta, pensate, alla sua 61esima edizione E la mostra delle tartufo più longeva delle Marche è la seconda in Italia dopo quella piemontese di Alba Quello che è certo che la mostra nazionale del tartufo bianco di Sant'Angelo Invado porta divinamente i suoi 61 anni e superato l'anniversario a cifra tonda di 12 mesi fa è pronto a riproporsi con un'altra proposta di alta qualità miscelata fra inogastronomia, cultura, grandi ospiti e i consueti premi del tartufo d'oro Si parte il 12 ottobre con il primo di tre weekend del mese per sette giornate che confluiranno nella chiusura del 3 novembre con la fiera merceologica Gli appuntamenti sono il primo weekend ci sarà l'inaugurazione con la ormai consolidata dall'anno scorso visto il successo, la frittatona al tartufo il primo weekend quindi sarà all'insegna di nonogastronomia e avremo un importante personaggio che fa parte del mondo ristorativo e dell'antico vinaio e il secondo weekend avremo il classico motoraduno internazionale che è arrivato alla 46esima edizione quindi quel weekend lì sarà un weekend dedicato allo sport dei motori venerdì, sabato e domenica e poi chiuderemo il terzo weekend del tartufo con personaggi particolari che hanno avuto una rilevanza particolare di stampo marchigiano ecco ci preme premiare, dare un lustro ai soggetti che hanno apportato valore alla nostra religione Una mostra di Sant'Angelo Invado che si inserisce in un periodo di cerca del tartufo inaugurato il primo ottobre e che proseguirà fino al 15 gennaio La stagione sembra cominciata abbastanza bene il prodotto c'è abbastanza adesso non in quantità esagerate però c'è abbastanza ma soprattutto di ottima qualità quindi i cercatori e anche i commercianti già ecco hanno vedono una buona stagione che si approssima prezzi abbastanza al momento cari perché chiaramente come tutti i prodotti la prima la stagione d'Italia le primizie sono sempre quelle più care considerate ecco che ai cavatori viene remunerato circa 1500 euro al chilo ai cavatori poi chiaramente dipende dalle pezzature dipende dai tagli però come prodotto finito al commercio al consumatore finale saremo intorno ai 2500-3000 euro al chilo continuiamo a parlare di eccellenze e non gastronomiche allora dal tartufo parliamo adesso del vino e lo facciamo occupandoci di una cantina pesarese premiata per aver prodotto il miglior vino del 2024 nel rapporto qualità prezzo è un vino della provincia di Pesero Urbino ad essere incoronato dalla guida specialistica Dr. Wine come miglior vino nel rapporto qualità prezzo per il 2024 si tratta del gazzo bianchello del metauro del 2023 prodotto dalla cantina di Sante di Carignano che è stato presentato ufficialmente in una degustazione organizzata ad hoc nel mercato coperto campagna amica di Coldiretti aperto in via Giolitti a Pesero un anno e mezzo fa oggi la giornata è dedicata in particolar modo al vino e alla chiusura della vendemmia praticamente e in occasione di questa giornata vogliamo festeggiare anche con molto orgoglio un vino che ha vinto il primo premio a livello nazionale per il miglior rapporto qualità prezzo un premio prestigioso un premio importante che mette in evidenza il fatto che nella provincia di Pesero ma direi nelle Marche ci sono molte eccellenze e questo lo dimostra è un vino che che quindi ha portato a livello nazionale l'orgoglio del nostro territorio proprio perché l'uvaggio utilizzato per questo vino è un bianchello del Metauro autoctore nativo della nostra zona della vallata del Metauro se vogliamo anche poco conosciuto logicamente è un monovarietale quindi viene utilizzato per il 100% biancame o bianchello del Metauro e l'impianto nello specifico che viene utilizzato per il Gaza ha 15 anni su terreno tufaceo e quindi la cura e la passione che viene messa in ogni passaggio dalla vite alla bottiglia dona delle caratteristiche di qualità importante che hanno permesso al Gaza di vincere questo premio il tutto contenuto in un prezzo modico che dà la possibilità a tutti di avvicinarsi a questa tipologia di vino il Gaza ha un colore giallo pallierino tenue con una gradazione alcolica di 12,5 dal punto di vista olfattivo si risentono delle note floreali e agrumate molto delicate che poi si ritrovano anche al palato oltre a una mineralità data dal terreno in cui viene coltivato il vitigno e anche una nota fresca nota acida che lo rende molto versatile come vino per quanto riguarda gli abbinamenti abbinamenti che sono stati gustati negli stessi spazi del mercato Campagna Amica partendo dal pane del mulino Gentil Verde abbiamo poi messo per la proposta vegetariana abbiamo pensato a un patè di zucchine e per la proposta diciamo classica una del pane con sopra il lardo e del miele di castagno non solo un vino da premio nell'occasione è stato gustato anche il succo d'uva naturale della cantina di Sante con la creazione di un apposito drink analcolico abbiamo deciso di abbinarlo di creare una proposta se così vogliamo dire giovane e abbinandolo e creando un drink analcolico con acqua frizzante e mele quindi anche rimanendo nella stagionalità dei nostri prodotti e allora davvero complimenti alla cantina di Sante continuate a stare con noi questa sera perché avremo tra pochissimo subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale un'anticipazione su quello che è il programma della nuova edizione di Cantiano Fiera Cavalli la prima domenica sarà proprio questa domenica 13 ottobre quindi seguiteci per sapere i dettagli appunto del programma e poi alle 21.20 il nostro appuntamento con il programma ideato da Compagnia delle Opere Pesaro Urbino cultura territorio impresa questa sera conosciamo la storia di Francesco Gambini che è titolare di Gambini Meccanica SRL e Sandro Cardinali di Dago Elettronica e subito dopo avremo invece il racconto di quello che è stata l'inaugurazione di una nuova sede confesercenti nel comune di Gabice E domani invece io vi aspetto puntuali alle 7.20 in diretta sul canale 80 sulla nostra pagina Facebook sulla nostra applicazione in streaming anche sul sito internet E allora buon proseguimento di serata sempre in compagnia di Rossini TV il telegiornale ritorna domani alle 19.30 grazie a tutti